Grazie Presidente, mi spiace ancora una volta intervenire con Question Time a livello di un giorno in pretura, però è sempre quella fondamentalmente. Parliamo di un'indagine denominata Stakhanov, penso che sia chiaro a tutti che fosse Stakhanov, quindi pare siano stati confiati i turni legati al presidio reabilitativo Umberto I di Bellano e anche quello che riguarda il concorso per l'assunzione dei medici. Parliamo del primario, il Dottor Galanti, che risulta a nota di stampa tra gli indagati e abbiamo visto anche cosa è successo sulla questione della Commissione che doveva valutare l'ingresso di nuovi medici. Il Dottor Galanti non doveva rientrare a detta del Commissario all'interno della Commissione, poi invece leggiamo che Galanti era lì e ha fatto anche delle domande e ha interrogato i candidati sulle sue pregresse e esperienze. Inoltre risulta anche sempre a mezzo stampa che uno dei candidati, che era in ritardo e era bloccato nel traffico, ha chiamato e la segretaria abbia fatto aspettare la Commissione per la valutazione di questo candidato. Quindi alla luce di tutto questo, alla luce del fatto che rientra nel registro degli indagati a mezzo stampa, che ha partecipato a una Commissione di valutazione, qui il Commissario che gestiva il loro ospedale non doveva partecipare. Chiediamo, siccome riceviamo numerose preoccupazioni da parte dei presidi locali, da parte degli utenti e da parte degli operatori, qual è l'orientamento che intende prendere la Giunta e l'assessore, che oggi non ci potrà rispondere purtroppo, dato che ha parlato in passato di cambio di rotta, di maggiore trasparenza e quant'altro, in riferimento alla posizione del Dottor Galanti. Quindi noi crediamo che insieme al Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera della provincia di Lecco debba prendere delle misure. Ci chiediamo quali misure intenda prendere per cambiare rotta, perché sono inaccettabili queste situazioni. Grazie, risponde per la Giunta sottosegretario Fermi, mia facoltà per quattro minuti. Sì, grazie Presidente. Io mi limito a dare lettura della nota che è pervenuta ieri, quando sono stato sostanzialmente delegato, mi sono stato richiesto di rispondere a questa ITQ, anche perché trattandosi comunque di indagini che hanno una rilevanza attualmente in procedimenti penali o indagini, è chiaro che le notizie sono quelle che mi vengono assolutamente in maniera lineare riportate a nostra conoscenza. Allora, facciamo un po' di ordine. La Procura di Lecco ha avviato un procedimento penale in ordine a una procedura di conferimento di sei incarichi liberi professionali attivata dall'Azienda ospedaliera il 2012 2012 e relativi allo svolgimento di attività di guardia medica diurna festiva di guardia medica notturna presso l'ospedale di Bellano, nella fattispecie presso la struttura complessa di medicina riabilitativa. I capi di imputazione che sono stati contestati dalla Procura sono il 323, quindi l'abuso d'ufficio, e il 479, che oggi è penale, quindi falso ideologico in atto pubblico. E interessano i componenti e il segretario della Commissione valutatrice dell'idoneità dei candidati. A tutt'oggi è stata notificata agli interessati la relativa informazione di garanzia. Credo che sostanzialmente sia il 415 bis, quindi l'avviso di chiusura delle indagini. Lo stesso provvedimento, con identica contestazione, ha raggiunto anche il dottor Galanti, che è il direttore a struttura complessa di medicina riabilitativa del Pio di Bellano. In un primo tempo individuato quale componente della Commissione. Da notizie di stampa, risulterebbe che l'indagine è stata avviata a seguito di un esposto presentato dal dottor Piercarlo Minoretti, che era un candidato classificatosi ottavo nel predetto avviso d'incarico. Il candidato Minoretti, peraltro, successivamente contattato per assumere il servizio, a seguito della rinuncia dei vincitori, ha formalmente anche rinunciato l'incarico. Nei confronti dei predetti dipendenti indagati, con deliberazione dell'azienda, la numero 941 del 412 2014, quindi dicembre dello scorso anno, è stata depositata la preclusione degli stessi alla partecipazione a commissioni per la scelta del contraente, per la selezione del personale, in attuazione di quanto disposto dalla 190 del 2012. Tale provvedimento è stato condiviso con il responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione e l'organismo di vigilanza, di cui l'articolo 13 bis della nostra legge regionale 33 del 2009. Per quanto concerne la prossima scadenza, che tra l'altro è molto breve, perché dopo domani, nel 16.4, il carico quinquennale di direttore della struttura complessa di medicina riabilitativa affidato al dottor Galanti, va precisato che l'eventuale rinnovo dello stesso è comunque subordinato le valutazioni esperite da un apposito collegio tecnico, così come previsto dalla vigente legislazione per i direttori di strutture complesse in merito alle attività professionali svolte dal professionista nel quinquennio precedente. L'indagine denominata Stacanov riguarda anche invece il procedimento penale avviato sempre dalla medesima procura di Lecco nel confronto dei medici assegnatari dell'ATT 118 di Lecco per l'assegnazione negli anni 2009, 2010 e 2011 dei turni di lavoro in regime di sistema premiante. Anche qui i reati ipotizzati sono il 323, quindi l'abuso d'ufficio e sempre il falso ideologico in atto pubblico, 479, coice penale. In più c'è la truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche, quindi 640 bis del coice penale. Nei confronti dell'attuale responsabile della AAT 118 è stata inoltre adottata la deliberazione numero 883 del 20 novembre 2014 sempre ai sensi della 190 del 2012 che ha stabilito che l'attività di predisposizione della programmazione mensile dei turni di lavoro sia in regime ordinario che in sistema premiante sia sottoposta all'approvazione del direttore del dipartimento di emergenza e urgenza. Infine si precisa che ad oggi non è pervenuta all'azienda ospedaliera alcuna altra comunicazione ufficiale da parte della Procura Repubblica in ordine allo sviluppo dell'iter giudiziario. Grazie, la parola per la replica al consigliere interrogante Violi. Sì, la cronaca giudiziaria la conoscevamo bene, quello che avevamo chiesto era che azioni intendeva intraprendere, chiaramente di concerto col direttore generale perché non può permettersi un assessore della sanità di intervenire o non dovrebbe permettersi quantomeno un assessore della sanità di intervenire su un singolo primario. Però dare delle linee guida chiare su chi è indagato, su chi magari ha truffato la stessa azienda quello ci pareva opportuno e non c'è stata data risposta. L'urgenza da question time arrivava proprio perché la scadenza del mandato quinquennale è tra due giorni e quindi forse sarebbe opportuno dare un cambio di rotta e dire chi è pulito può gestire la pubblica amministrazione, chi ha dei sospetti può fare anche solo il medico e poi se risulterà come tutti si augurano pulito e che è la magistratura che ha sbagliato ad indagare a quel punto si ricandiderà per ulteriori posizioni. Quindi non siamo assolutamente soddisfatti della risposta, speriamo che i fatti non ci diano ragione e ci sia veramente un cambio di passo che però spichiamo da un paio d'anni e fatichiamo molto a vedere sinceramente. Grazie.